Buongiorno, adesso ci vediamo con un altro filmato di Carletto Life, dove questa volta sono a pranzo Federico e nonno Faustino e si scambiano delle opinioni, in più Federico fa una rivelazione al nonno, il quale diceva che quando era piccolo mangiava a scuola ad Sisi e lui rivela di aver marinato la scuola un giorno sì, un giorno no, a voi filmato. Ciao a tutti, guardate subito che buongiorno è, subito tagliatelle ritagliatellate con formaggio riformaggiato, buongiorno è, buongiorno, buongiorno è, buongiorno è, buongiorno è, mannaggia Cosa è il Crucistrada? Già mangiamo di qui, via tagliatelle giù 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 Questa è la differenza, io ho questo, questo, questo e lui guarda come arzughe Arzughe? Sì. Che arzughe? Che arzughe? Ma che avanzo? Eh? Eh eh. Guarda che servizio, mi tocca anche sparecchiarti, ma ti rendi conto? Eh? Oh! Quante cose hai imparato Eh? Ma quanto sei fortunato? Ma che scherzo, la fortuna io? Sparecchio, parecchio, facile. Ciao a tutti. Com'è? E io quante volte ho portato alla scuola e poi facevo salina? Ma non è assolutamente vero. Eh? Non è vero, è che delle volte non si entrava a scuola perché mica si può entrare tutte le mattine, si faceva un po' a dare a bere, no? Un po' in po'. Eh? Hai capito? Sì. Delle volte ci vede, delle volte no. Eh certo. E io venivo su di lì, assisi, a portarti di lì con la macchina. E mica mi potevi portare sulla rocca direttamente, è più bello così, era più carino. Cioè tu mi scendevi là, io andavo di qua. Ma ne ho già ancora di strada.